dai dai così se le spalle le spalle devono seguire il manubrio e vedi che gira da sola prova allarga un po le gambette le ginocchia gira anche le spalle bravo così bravo e l'amore vuoi vedi? veloce questo è un livello questo è un livello devo fare? dov'è bene? però non ti provo Grazie a tutti.